Se volete che questo contest sia attivo, visto che quasi tutti i video facciamo 60 like almeno, questo video deve arrivare almeno a 75 like Bello a tutti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi, tornato in un nuovo video So che vi sono mancato, però purtroppo in queste vacanze qua ho deciso di passare un po' più in famiglia, quindi ho deciso di caricare un po' meno video Però da questa settimana qua, quindi dal nuovo anno, ho deciso di tornare con tanti video appunto perché so che ne ho caricati di meno la settimana scorsa Ho deciso di caricare un po' di più qua Ragazzi siamo tornati con il primo contest ufficiale di FIFA sul mio canale Metterò a disposizione 150.000 crediti che saranno divisi tra il primo, il secondo e il terzo posto Pensavo di fare 75.000 al primo, 45 al secondo e 30 al primo Che se non erro dovrebbero fare 80-40, no, 80-40-30, si è giusto, ok, 150 a posto A posto raga, un momento di confusione però, allora raga, in cosa consiste il contest? Il contest ovviamente come voi saprete ha lo scopo di farmi conoscere, ovviamente se non è che quello lì è lo scopo Quindi la cosa che ho messo a voi io è Facciamo così, visto che io comunque vi regalo crediti La cosa che dovete fare voi è semplicemente condividere questo video con i vostri amici E colui, cioè l'iscritto che mi porterà più appunto altri nuovi iscritti Quindi condividendo ai vostri amici o comunque parenti, mamme, nonne, padri Comunque non lo so, persone che si iscrivono al mio canale Vincerà quindi appunto ovviamente il primo sarà quello che avrà portato più iscritti Il secondo sarà quello che avrà portato più iscritti Quindi non è difficile da capire Comunque, come farò io a capire come avrete portato gli iscritti? Voi semplicemente dovete scrivere nei commenti Hashtag partecipo di fianco il vostro ID Instagram Perché? Perché Instagram? Perché nel contest fa parte anche il seguirmi su Instagram Perché io devo verificare che effettivamente le persone che i nuovi iscritti siano delle persone reali E non degli canali che vi siete creati voi O adesso, o 5 minuti fa, o un anno fa Semplicemente perché se no mi farei degli iscritti che non hanno senso Cioè sarebbero dei fake iscritti Quindi non mi piace questa cosa qua Allora semplicemente voi dovete scrivere Hashtag partecipo il vostro nome Instagram Andarmi a seguire su Instagram così io capisco che siete reali E poi dovete portarci a condividere il video ai vostri amici Spiegargli cosa dovete fare E loro dovranno semplicemente andare a commentare Mettere like al vostro commento in cui scrivete partecipo il vostro nome Mettere like, commentare sotto con scritto Hashtag mi porta è il nome di quello che vi ho portato Quindi quello sopra Cioè quello sotto il quale avete commentato E poi anche lì il vostro nome Instagram Col quale mi seguirete poi su Instagram ovviamente La cosa che vi posso dire io per aiutarvi e per darvi una mano Comunque per arrivare primi è Se siete furbi vi mettete in due a farlo Quindi che ne so Solo uno dei due scrive Mettete che siete due amici Solo uno dei due scrive partecipo il nome E poi tutti e due invece portate Portate, dite ai vostri amici di commentare sotto le cose lì E poi a me non frega niente Cioè potete dividervi i soldi Quindi se arrivate primi avete 75k a dividervi E quindi fate 37 e mezzo la testa Se siete più intelligenti Perché magari avete meno possibili Quindi la cosa che posso dirvi io è Se siete furbi Non fate gli stupidi Perché se io mi accorgo Che nei commenti avete scritto Cioè avete Avete commentato con scritto tipo Mi porta tac 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 con un account Che non è vero Io vi squalifico perché Avete tentato di ballare quindi vi squalifico Quindi non utilizzate gli account perché Ci mette due secondi a capire se è un account nuovo O se è comunque un account Che è un account che utilizzate seriamente su youtube O no E la cosa che vi dico è Non fate i cancroni che Utilizzate un account fake su youtube Scrivendo Mi porta tac 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 Poi vi mettete un nome di instagram E poi vi create un account su instagram Perché ci metto veramente due secondi a capire E vi squalifico E raga io non mi faccio nessun problema Vi squalifico tranquillamente Io non... Cioè se vogliamo fare le cose bene Facciamole bene Cioè vi regalo crediti Non mi sembra di chiedervi niente Dovete semplicemente condividere il video E aiutarmi a crescere E solo questo qua Cioè non dovete spendere soldi Donare Cazzo te vale Dovete semplicemente fare quello Per guadagnarvi 80k Cazzo 80k non sono pochi Per un totale di 150k Quindi se siete furbi Aiutatevi a vicenda tra amici E nulla Mettetevi d'accordo E cercate di commentare sempre lo stesso Commento così siete più furbi Oppure semplicemente potrete Anche non Vostri amici Ma semplicemente Non lo so In qualche modo Che ne so Quando andate nelle pagine Facebook Nelle pagine Instagram Semplicemente scrivete Guarda C'è un contest Quindi se Vuoi Darmi una mano Semplicemente basta Che ti iscrivi a questo canale qua Metti questo commento qua E scrivi Mi porta Comunque gli linki il video E lui capisce Gli linki questo video qua E lui capisce E nulla Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Spero che l'idea vi piaccia Perché se Se mi dite che è un'idea Che vi può piacere Per me Possiamo farla anche Ogni 500 iscritti E la facciamo E ci divertiamo insieme Quindi Raga Prima di cominciare Se volete che questo contest Sia attivo Visto che Quasi tutti i video Facciamo 60 like almeno Questo video deve arrivare Almeno a 75 Like Sia attiv İstanbul aspetta Grazie a tutti.